Radio Mi Piace Su Radio Mi Piace Difossi del Bari, buongiorno e benvenuti a questa nuova puntata di Tanto Non Capirai, Orgoglio Barese su Radio Mi Piace Buon venerdì 23 febbraio, un saluto a tutti voi da Nicola Lucarelli E allora ci siamo Bari domani in campo al Liberati di Terri contro la Ternana del neotecnico Gigi De Canio Fischio d'inizio alle ore 15, puntata odierna dedicata al preview del match Con notizie, interviste, rubriche e ospiti in collegamento telefonico Come sempre linea aperta per i tifosi del Bari all'ascolto Contattateci per dirci la vostra o per rispondere al nostro quesito odierno Che riguarda ovviamente la gara di domani del Liberati Quello che vi chiediamo è come finirà Ternana Bari Fate il vostro pronostico sulla nostra pagina Facebook Tanto Non Capirai, Orgoglio Barese su Radio Mi Piace Facci un post per commentare la trasmissione E allora, ieri Bari che ha sostenuto una seduta di allenamento pomeridiana La squadra ha svolto lavoro atletico Seguito da esercitazioni tattiche sul campo del San Nicola Seduta differenziata ancora per Marius Oiconomu Per lui ancora terapia e difficile un recupero in vista di domani Per quanto riguarda il programma degli allenamenti Per quest'oggi seduta mattutina con inizio alle ore 10.30 Anche questa si terrà all'interno dello stadio San Nicola Ieri intanto in casa Ternana Presentazione del neotecnico Gigi Decagno Decagno che ha parlato di quelli che sono i suoi progetti Le sue idee per quanto riguarda la sua nuova avventura sulla panchina Umbra Ascoltiamo le sue parole raccolte dai colleghi di Ternana News Tanto non capirai Qualche giorno fa ho letto una intervista In cui il proprietario Bandetto diceva Sognavo la serie A Siamo invece in difficoltà Come ci ho messo la faccia prima ci metto la faccia ora E quindi si è esposto evidentemente Avendo il coraggio di richiamare degli errori di valutazione Poca gente fa così Ho capito che erano persone per bene Poi dopo qualche giorno mi arriva la telefonata Del presidente Ranucci Mi ha fulminato perché ha usato delle parole Che solo le persone per bene Sanno usare E sono convinto quindi di essere in un ambiente giusto Dove c'è la volontà di programmare E di fare qualcosa di importante per il futuro E questa per me è una grandissima motivazione Terni è una piazza importante Ha un passato prestigioso Per la legge dei grandi numeri Un po' tutte le grandi piazze calcistiche Prima o poi hanno ritorno E allora partecipare ad un'impresa del genere Mi faceva piacere Io ho cominciato E ho fatto tutte le categorie Quello che ho me lo sono guadagnato E conquistato attraverso le imprese impossibili Questa mi sembrava un'impresa Mi sembra un'impresa difficile E quindi anche stimolante da un punto di vista professionale E anche un po' per quello che noi allenatori abbiamo Questo ego sfrenato che ci fa pensare Di poter risolvere anche le situazioni più implicate Se sapessi che con il modulo potremmo non prendere più gol Allora sì, sarebbe un problema risolto E che vedete, per tutto c'è una prima volta Io ho avuto tante esperienze di questa situazione Però è la prima volta che mi capita di trovare una squadra Che è in ultima posizione Che fa tanti gol E che ne subisce Ho sempre avuto il problema di squadre Che subivano poco E facevano pochi gol E quindi lì sapevo Bisogna che parli con i calciatori Mi renda conto della loro condizione psicologica Perché in questo momento c'è da fare conto Anche su questo aspetto Su questa condizione Perché quando poi i risultati non vengono Soprattutto una squadra giovane Non molto esperta Può avere un calo sotto il puttino della fiducia Quindi qualche cosa faremo Vediamo Ci inventeremo qualcosa E questo Gigi De Cagno Che ha quindi parlato della situazione della Ternana Squadra un po' strana Perché comunque è una squadra che non ha mai avuto problemi A trovare la via del gol Però subisce tantissimi gol Ricordiamo anche la partita d'andata proprio col Bari Diversi errori Che agevolarono anche la partita E la vittoria dei Biancorossi Sicuramente De Cagno lavorerà su quello Ma presumo Da sabato in poi Da lunedì in poi Perché in poche ore si potrà fare veramente poco Come ha detto il neotecnico Umbro Bisognerà lavorare sulla testa dei calciatori Per capire anche in quali condizioni Non solo fisiche Ma anche psicologiche È la sua squadra Quindi sicuramente De Cagno in queste ore Lavorerà sull'aspetto mentale dei calciatori Vedremo un pochino cosa riuscirà a fare in poche ore Noi come abbiamo detto ieri Speriamo che De Cagno possa far bene A partire dalla settimana prossima Perché domani il Bari Ha la necessità assoluta di fare punti Perché non vincere a Terni Significherebbe veramente Andare a limitare Le nostre possibilità I nostri sogni di gloria Come li ho definiti ieri Ma prima del forum C'è un amico in linea Ciao benvenuto Tanto non capirai Ciao Nicola Buongiorno a tutti Ciao Allora sono Michele Da Iapigia Il Bari Buongiorno Michele Sarà una partita dura Perché cambiando allenatore I giocatori daranno Un po' di spirito in più Al nuovo allenatore Però il Bari Vingerà per una rita a zero E l'altra cosa volevo dire Qui a Iapigia Stai il comodo ex del Bari Perché non vengono allenarsi qui Quale? Il quello dei Matarrese? Grazie e buongiorno a tutti Ok Ciao Peppi Forse si riferisce al quello dei Matarrese Vabbè Ce ne sono tanti di campi Come ho detto ieri Qua bisogna provare a sistemare Il campo dell'antistadio Perché la squadra non può Girovagare per Bari e provincia Per cercare un campo di allenamento decente Cioè quello dell'antistadio Va risolto Va sicuramente messo a posto Perché il Bari non può continuare A allenarsi su un campo di allenamento del genere Eravamo sul forum Giorgoglio Barese.it Cresce l'attesa appunto In vista del match di domani Allora tastiamo il polso Della tifoseria biancorossa Leggendo i commenti Dei tifosi biancorossi Iscritti al forum C'è l'utente Pier01 Che dice Temo terribilmente questa partita Il cambio di allenatore Poi è la ciliegina sulla torta L'altra faccia di questa medaglia Però è che saranno costretti A fare la partita Lasciando a noi L'opportunità di giocare in rimessa Quindi Giocando con lo stesso Identico atteggiamento Delle ultime due gare Considerata poi La loro difesa Da media serie C Potremmo vincere facilmente Speriamo Poi l'utente Saver 66 E la prova del 9 L'ennesima Come lo è stata Quella contro Empoli Frosinone E anche Cremonese Non credo si tratti di paura Né in un senso Né nell'altro Si dovrà entrare in campo E fare la partita giusta Con criterio E se saremo maturi E concreti I tre punti Ce li portiamo a casa Diversamente vuole dire Che non siamo pronti Per il salto di qualità Poi l'utente Witt Scrive Si affronteranno la Ternana Con la stessa grinta E attenzione di Cremona Porteranno a casa I tre punti La formazione Spero resti Grosso modo la stessa Se si sè Starà bene Lo vedrei bene A sinistra Dare una mano A Kozak E Galano Altrimenti Perché non rispolverare Iocolano Già Iocolano Che è un po' Ai margini Nell'ultime partite Grosso l'aveva utilizzato Con una certa continuità Anche nel corso Dei giorni d'andata Aveva approvato Per lui Col ruolo da mezzala Dove stava facendo anche bene Però in effetti L'ex calciatore Dell'Alessandria È stato poco utilizzato Nelle ultime partite Bene Siamo pronti Per lo spazio Dedicato a numeri E curiosità Di questo Ternana Bari Ci dice tutto Il nostro database Bianco-rosso Giancarlo De Pepo Buongiorno Giancarlo Ben ritrovato Buongiorno a te E buongiorno a tutti i tifosi Del Bari Mascolto Allora Giancarlo Prima di parlare Di Ternana Bari C'è un'altra partita Da tirare in ballo Anche in realtà Ci hanno già pensato altri Sto parlando di Bari Castel di Sangro E questi sospetti Di Combine Già ampiamente Caduti nel vuoto Nei giorni scorsi Abbiamo anche ascoltato Due protagonisti Dell'epoca Come Carlo Regalì E Sergio Volpi Il tuo punto di vista Su questa faccenda Ma il mio punto di vista È che Tirare fuori Una cosa Di Di vent'anni fa Non so se fa più sorridere O fa più pena Magari pensando Al nome Dell'allora Presidente Del Castel di Sangro Perché Pare evidente Che possa trattarsi Proprio di una Strumentalizzazione Nei confronti Di Gabriele Gravina Poi Ripeto Il conduttore Di quella Di quella Trasmissione Sappiamo Di che fede Calcistica Tra l'altro È venuto È venuto A Bari Ai giochi Del Mediterraneo È stato Ben trattato È stato Ben accolto Proprio nel 97 È stato A Bari Ai giochi Del Mediterraneo È una cosa Che mi lascia Mi lascia Sbigotti Vabbè Per noi Ripeto La cosa È bella È chiusa Archiviata Da giorni Però volevo sentire Il tuo Punto di vista Veniamo ora A Ternanabari Grosso che recupera Sissè Da valutare O economo Come detto Difficile Un suo recupero Per il resto Tutti a disposizione Tu che formazioni Ti aspetti Per domani Conferme O poi magari Qualche sorprese Ma io mi aspetto Io mi aspetto In linea di massima Delle conferme Magari Bascia Al posto Di un petriccione Che ho visto Ancora una volta Un po' leggerino In quel di Crebona Soprattutto nel ruolo Di playmaker Davanti alla difesa Forse nel ruolo Di centrocampista Puro Di mezzala Potrebbe andare bene Andar meglio L'ex Ternano Forse invece Nella partita di martedì Con lo Spezia Mi aspetterei Non dico Un turnover Ma tre o quattro Cambi Per farsi Anche di Dare spazio A chi ne ha meno In questo periodo Secondo te Per Grosso Per il Bari È più difficile E importante La partita di Terni O quella contro Lo Spezia Per capire Insomma Il turnover Potrebbe anche esserci Magari a Terni E schierare i migliori Contro lo Spezia Ma io vedo Come sono Tutte le Non voglio parlare Da allenatore Dire che Tutte le partite Sono ugualmente Difficili Diciamo che Forse dal punto Di vista tecnico Per la forza Dell'avversario Lo Spezia È un avversario Da guardare Più con gli occhi Aperti Però Data la situazione Della Ternana Il cambio Dell'allenatore L'arrivo di De Canio L'ambiente Che troverà Che troverà In Umbria Il Bari Forse la trasferta Di Terni Nel complesso È un tantino Più delicata Di tanto Giungono Già tanti messaggi Dei nostri radioascoltatori Giancarlo Leggiamo quello Di Nostradamus Che dici? Vediamo un po' Che dice Leggiamo Lui dice Fino a Bari Brescia Le mie visioni Sono tutte positive Caro De Canio Anche tu Dovresti chiedere Scusa Ai tifosi baresi Per quel derby Che dici? Mi sono un po' Spaventato Dato che Ha detto Ha iniziato La frase Con De Credevo Che dovrò Chiedere scusa Io A parte Che sono anche Io Un tifoso baresi Quindi Chiedere scusa A me stesso Sarebbe un po' Difficile Allora Veniamo a questo Ternano a Bari I precedenti Di questa sfida Quanti sono E ti chiedo Se c'è una tradizione Favorevole Per il Bari Al Liberati di Terni Eh no Eh no Io parlo sempre Di precedenti Nel campionato Cadetto E Questi sono Diciotto Al Liberati di Terni Con ben Ripeto In diciotto gare Nove sconfitte Sette pareggi E due sole vittorie Eh L'ultima delle quali A maggio del Duemilaquattordici Ne accennavamo La scorsa volta Una gara Che vincevamo Tre a uno Con vantaggio iniziale Per gli Umbri Dell'attuale Bomber Della Spal Antenucci E qui seguirono I gol di Nadarevic Cepitelli E di Del Vecchio Sul rigore Addirittura Al novantaseietimo Partita particolare Appunto Per il vantaggio iniziale Dei Dei Rossoverdi E per ben Tre espulsioni Espulsioni Dei Ternani Zito Chissà che non lo ricordiamo Brignoli Il portiere E Alfageme Un Un fantasista Che ora gioca Nella Nella Casertana Era il 2014 In piena remontada Il Bari appunto Si impose Sul terreno Della Ternana E l'arbitro Era quell'Aureliano Che ha diretto La partita di Cremona Venerdì sera Giancarlo Vado a sollecitare La tua memoria Perché I tifosi della Ternana Diciamo che ce l'hanno Con il Bari Per un motivo specifico Perché in passato Ci fu una partita Tu ricordi quale E cosa avvenne? Ma veramente Ma Ternana-Bari? Sì Ci fu una partita Dove in pratica La Ternana Doveva salvarsi Il Bari vinse Condannò la squadra Umbra All'altra cessione Se ricordo bene Però io Non ho una grandissima memoria Ah sì Però fu una partita Che si giocò a Bari A Bari E il Bari E la Ternana Andò in vantaggio Con Miccoli Giocava Miccoli Nel Bari Poi il Bari Ribaltò il risultato E condannò La Ternana Alla Serie C Ma anche il Bari Si sono stati sempre Episodi strani Ma ripeto Più a Bari Che a Terni Io non dimentico Una gara Del Del campionato 83-84 Che il Bari Vinse Con una certa Con una certa Agilità Possiamo dire Fu il primo Campionato Con cui passamo Con Bolchi Dalla C Alla B E poi l'anno dopo Addirittura Fummo promossi Dalla B Ripeto Dalla C Alla B Vincemmo una partita Sul campo Con la Ternana Per 1-0 Ripeto Però a Bari Ma una lattina Colpì Il giocatore Della Della Ternana Raggi E La Ternana Allora Non c'era La penalizzazione Non c'era La Come dire La conferma Del Del risultato Sul campo Quando una squadra Perdeva un calciatore E la penalizzazione Alla squadra I cui tifosi Si erano resi Colpevoli Di questi atti E invece La Ternana Ebbe la vittoria Per 2-0 Per quanto Concerne Gli ex Quanti sono E quali sono Beh Per gli ex Siamo pari In questa partita Abbiamo Dalla parte Della Ternana Abbiamo Defendi Statella E Albadoro Mentre Nel Bari Annoveriamo Petriccione Bussellato E Modibo Di Akite 3-3 Ternana Bari Che sarà arbitrata Dal signor Livio Marinelli Della sezione Di Tivoli Quanti e quali I precedenti Con questo Direttore di gara Abbiamo Abbiamo due Soli precedenti Entrambi Negativi E cioè Due Sconfitte Entrambe In casa La prima Ad agosto Del 2016 Mi pare Il giorno 27 Contro Il Cittadella E perdiamo Per 2-1 E l'altra A settembre Scorso Il giorno 9 settembre In casa Col Venezia La particolarità È anche Che con questo Arbitro Anche la Ternana Non ha mai vinto E l'ulteriore Curiosità È che si tratta Di un Arbitro Della sezione Di Tivoli Sezione di Tivoli Che dal punto Di vista Della scaramanzia Non porta Molto bene Al Bari Perché ricordiamo Anche I risultati Con l'arbitro Pasqua Della sezione Di Tivoli Ora arbitro Di Serie A Però la differenza È che mentre Marinelli È nativo Di Tivoli Il signor Fabrizio Pasqua Invece È nativo Di Nocere Inferiore Perfetto Perfetto Come sempre Preparatissimo Giancarlo C'è il Ragioscoltatore Andrea Che ci scrive Se non sbaglio In quella partita A cui faceva Riferimento De Peppo Miccoli Sbagliò Anche Un rigore Ti risulta? Sì Ricorda Ricorda bene Il nostro Ascoltatore Tutti preparati I nostri Ragioscoltatori Giancarlo Infine Dice a Bari Mattina mattina Abbiamo studiato Tutti Infatti Giancarlo Tra i tifosi Del Bari C'è un po' Di timore Per via Di questo cambio Giancarlo Ecco Sappiamo cosa accade Quando c'è un cambio Di guida tecnica Motivazioni Nuove motivazioni Per i calciatori Ecco Proviamo Ad esorcizzare Questo fattore Metto ancora una volta Alla prova La tua memoria Ricordi qualche partita Nella quale Il Bari Ha trovato una squadra Con un nuovo tecnico Però ha avuto la meglio Riuscita comunque a vincere Ma in questo momento Mi cogli Mi cogli impreparato Hai trovato Hai trovato Da bravo professore Hai trovato Il punto debole Della mattina Ma diciamo Che Forse Appunto Le nuove motivazioni Di una squadra Possono essere Come dire Alimentate Dall'arrivo Di un nuovo allenatore Tutti quelli Che vanno in campo Sono Chiamati A confermare Le proprie Le proprie doti Diciamo La meritevolezza Di avere il posto In squadra Però Appunto I cambi di allenatore Non sempre Non sempre portano Anzi Molte volte La squadra Dopo Dopo un iniziale Dopo un iniziale Shock positivo Dopo alcune settimane Ricade Negli errori Ricade Negli errori Che compiva Con i precedenti allenatori L'unica cosa Che a me Spaventa un po' Tra virgolette E che appunto Grosso Si troverà davanti Una squadra Che Non ha potuto Osservare Per come giocava Nelle partite precedenti Perché appunto Con De Canio Non ha mai Non è mai sceso In campo Però c'è da dire Che il programma A lungo termine Che ha Che ha Voluto Sottoscrivere De Canio Con una firma Per tre anni La dice lunga Anche sulle Motivazioni Forse sul fatto Di tenere a bada Una piazza Anche Nell'eventualità Non remota Di poter Retrocedere Quest'anno Ed è quello che ha detto Anche il presidente Della Terrana Perfetto Giancarlo Con te Appuntamento Alla settimana prossima Sarà un doppio appuntamento Visto che Bari gioca Anche Martedì 27 Contro lo Spezia Grazie Giancarlo Buona giornata E forza Bari Alla prossima Forza Bari Buona giornata Grazie Giancarlo Bene noi ora ci fermiamo Per un minuto Ma torniamo subito Molto più di una semplice Autocarrozzeria Fratelli Alberga È un vero punto di riferimento Dinamico e polifunzionale Con una vasta gamma di interventi Per risolvere con tempestività E precisione Tutte le necessità In fatto di carrozzeria E autoriparazione Meccanica leggera Elettrauto Revisione auto Soccorso stradale Igenizzazione abitacolo Verniciatura E specializzati Nella riparazione Di vetture grandinate Gestione sinistri Con consulenza E disbrigo pratiche Convenzionati Con le maggiori compagnie Assicuratrici Preventivi dettagliati E gratuiti Relativamente al servizio Richiesto Con tutte le voci di costo Inclusi pezzi di ricambio E mano d'opera L'autocarrozzeria Dei Fratelli Alberga Non è solo officina Ma anche rivendita Di auto nuove ed usate E ti offre consulenza Per l'acquisto di un'auto Sia nuova che usata A prezzi competitivi E servizio chiavi in mano Autocarrozzeria Fratelli Alberga Autorizzata Fiat A Binetto Via Macchia del Bosco Telefono 080 62 2014 Radio Mi Piaci Bene ed eccoci Siamo sempre qui Su Radio Mi Piaci Vi ricordo Il quesito di erano Come finirà Ternanna Bari Fate il vostro pronostico Tanti messaggi Tra un po' Li andremo a leggere Ma siamo pronti Per il nostro secondo collegamento Per lo spazio Dedicato a squadra E tifoseria avversaria Siamo in collegamento Con Terni Con l'amica e giornalista Di Ternana News Punto It Marina Ferretti Buongiorno Marina Ben ritrovata Qui a tanto lo capirai Buongiorno Nicola Allora Marina Diciamo che in questi giorni Non ci si annoia Da quelle parti Ecco Ve lo aspettavate Quest'ulteriore Cambio di guida tecnica Allora Francamente No O perlomeno Non a questo punto Perché comunque Date le parole di Bandecchi La settimana scorsa Ho fiducia in Mariani Non è un Un esperimento Non è un'avventura Tre partite Così ravvicinate Pensavamo Che magari potesse Garantire al tecnico Un pochino più tempo Poi invece L'altro giorno Si è venuto a sapere Che comunque Era tutto pronto Nel senso che Comunque Mariani Sapeva benissimo Di non essere L'allenatore della Ternana Ma di essere solo di passaggio Per garantire Alla sua finalità Di trovare L'allenatore giusto Quindi c'ha un po' spiazzato Ovviamente i risultati Avrebbero portato A pensare Ad un esonero Ma Non in questi tempi Ecco Soprattutto per quello Che si era detto Ecco Marina Facciamo un passo indietro Parliamo di questa Ternana di Pokeshi Una squadra Comunque sbarazzina Che giocava anche bene Segnava abbastanza Un tecnico sicuramente Sui generis Ecco Ti chiedo Secondo te Se è stato giusto Esonerarlo Oppure magari Se poteva dare Un po' più di tempo Considerando anche La squadra A disposizione Dell'ex tecnico Del Fondi Se non sbaglio Allora Nicola Guarda Sul fatto Dell'esonero È stato giusto Dal momento Che la società Comunque aveva Mostrato Di aver perso fiducia In Pokeshi Perché già Avergli messo Accanto Comunque Una persona Che Diciamo Supervisionasse Le conferenze Stampa Che impedisse Di Traricare Diciamo Alcuni limiti Già mi sembra L'indice Che comunque Si era persa La fiducia E quindi È stato giusto Esonerarlo Da questo punto Di vista Anzi Secondo me L'esonero Arrivato Anche troppo Tardi Perché comunque La società Aveva già perso La piena fiducia In Pokeshi Prima della fine Del girone Dandala Quindi probabilmente Il momento migliore Sarebbe stato Dopo Avellino Più che altro Per dare Anche la possibilità A un eventuale Nuovo tecnico Di preparare Il mercato Di comunque Portare avanti Il ritiro Con le sue Metodologie Se tu Passi La fine del girone Di andata Fai fare Il ritiro A Pokeshi Fai fare Il mercato A Pokeshi È ovvio Che poi Però non puoi Farti passare Due partite Di cui una Con l'Empoli Che voglio dire Non stiamo vedendo Non è una squadra Proprio Delle più scarse Ecco Quindi Diciamo Hanno sbagliato Un po' Le tempistiche In ogni caso Però questo Comunque Bandecchi Lo ha riconosciuto Viene 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 dato atto Perché Non sono tutti Presidenti Che riconoscono Comunque Gli errori Fatti Ecco E ora Appunto Inizia l'era De Canio Per lui Contratto Triennale Poche ore Per il nuovo Tecnico Per preparare La partita Ecco Come credi Proverà De Canio A cambiare La squadra Credi Che potrebbe Eserci Un cambio Di modulo Di atteggiamento Perché in conferenza stampa È stato un po' Criptico Ma diciamo che Noi abbiamo potuto vedere Anche soltanto Il primo allenamento Perché effettivamente Ha allenato ieri Per la mia volta E oggi farà La rifinitura A porte aperte Quindi Anche lui Non è che abbia Molto tempo Per cambiare qualcosa Adesso Probabilmente Per il momento Cercherà di lavorare Più sulla testa Perché È anche questo Un grosso problema Della Tertana Ma di tutte le squadre Che giocano Ma alle quali Non arrivano punti Un po' di Fiducia Che viene a mancare Un po' di sicurezza Che comunque Comincia a calare Credo che De Canio Sia la persona giusta Per rimettere un po' I giocatori Sulla retta via Nel senso di Fargli capire Che mancano ormai 16 partite Più giù di così È difficile andare Perché comunque Al momento Siamo in serie C Da ultimi Quindi Bisogna tirare fuori Tutto quello che c'è Per cercare di Di fare Come l'ha chiamato lui Questo piccolo Miracolo sportivo Mi ha detto Non ho la bacchetta magica Ma ci proverò Ha ricordato Un po' I diverani Dell'anno scorso E quando è arrivato Io non ho la bacchetta magica Proviamo a fare le cose Con una certa dignità Vi ricordo che siamo in diretta Con Terni Con la giornalista Di Terrananews.it Marina Ferretti Venendo la probabile formazione Lo so che Una domanda questa Molto molto difficile Quali 11 Antibari Possiamo ipotizzare Questa è una domanda Veramente Veramente Difficile Perché Penso che importa Comunque Tornerà Littari Ieri è tornato a Terni Dopo l'amichevole Con l'Italia L'Under-19 In Francia Quindi È a disposizione Non ha nemmeno giocato In Francia Non credo Abbia grossi problemi La difesa La difesa Ieri ha provato La difesa a 4 Però non so se Sia questa La sua idea Ha provato Vitiello Signorini Valiant E Favalli Dietro Però non so Francamente Se Questa sia La sua idea Perché comunque Ha conosciuto i ragazzi Ieri Poi ha messo Ha fatto una formazione Strana Perché in realtà Era una sorta Di 4-5-1 Tra un 4-5-1 E un 4-3-3 Una cosa ibrida Perché Più spostati Verso la difesa Centrocampo C'erano Signori Paolucci E Oddio Defendi No Defendi era davanti Nei due Che stavano Che orbitavano Tra centrocampo E attacco Defendi in passato Ha giocato in quel ruolo Era Un giocatore Molto più offensivo Il terzo di centrocampo Era Tremolada Che però Probabilmente Ne abbiamo pensato In fase di non possesso Somiglierebbe a un 4-5-1 Quindi Tremolada Da lì Si accentrerà Probabilmente Non so Quindi c'erano Dependi Stadella Dall'altra parte Come Attaccante esterno Molto largo E Montalto Unica punta Una cosa che ti lascia Un po' Perplessi Era Tremolada Ma Probabilmente anche De Cagno Dovrà fare Le sue prove Quindi insomma Si pronuncia una Ternana Se verrà confermata Questa formazione Abbastanza Chiusa E abbottonata Tanti ex Nella Ternana Ne hai citati Ne hai citati tre Anzi due Ma mi soffermo Su due ex Giovani promesse Del vivaio bianco-rosso Giuseppe Stadella E Diego Alvadoro Come sta andando Il loro campionato Stadella è arrivato A gennaio Tutto sommato Non sta Figurando Anche se comunque È stato anche utilizzato Come Terzo di centrocampo Come quarto Di centrocampo Quindi Anche un po' Snaturando Il suo ruolo Che è più quello Dell'attaccante esterno Quindi Ecco La formazione La probabile La formazione De Canio Potrebbe Accalzargli Maggiormente A pennello Rispetto a quelle Utilizzate Fino ad ora Albadoro Sta vivendo Un momento Particolare Diciamo Perché comunque È chiuso Davanti Da Montalto Perché comunque Montalto 14 gol È impossibile Non farlo giocare A meno che Non si faccia male È arrivato Anche Pio Paccari Cioè Finotto Diciamo che È un po' Scivolato indietro Nelle gerarchie Però comunque Non Non credo sia Un giocatore Che non possa Giocare Un campionato Di Serie B Ecco L'abbiamo visto Tutto sommato Poco Ancora Marina Infine Ti chiedo Come sta rispondendo La tifosa Se ci sarà Magari qualche Tifoso In più Se hai magari Un dato Sui biglietti Venduti Settore Ospite Compreso Ospiti Ti dico Che Purtroppo Il dato Sui settori Non lo abbiamo Ma Sarebbe poco Indicativo Perché Comunque Dopo Il risonno Di Poghesci L'arrivo Di Mariani Era stato preso Abbastanza male Devo dire Non era stato Apprezzato Quindi si era Svuotato Nuovamente Lo stadio Adesso però Con l'arrivo Di De Canio Che è subentrato Ieri Vedo già La diffuseria Comunque Un pochino Più contenta Perché comunque Sì Esattivamente abbiamo preso Un allenatore Con esperienza Che La Serie B La conosce Conosce anche La Serie A Quindi I tifosi Stanno Piano piano Riavvicinandosi Anche ieri Agli allenamenti Che è un dato Poco indicativo Ma Comunque Anche quello È giusto Sottolinearlo Di solito Non veniva nessuno O quasi Ieri invece Con tutta la pioggia C'era Comunque un pochino Esigenti Curiosi Quindi probabilmente Alla lunga Funzionerà anche Qualche tifoso In più arriverà Sì Funzionerà anche Sul tifo Diciamo Marina Infine dal punto di vista Meteorologico Cosa devono aspettare I tifosi del Bari Che raggiungeranno L'Umbria Eh guarda Purtroppo Probabilmente La pioggia Non dovrebbe essere Molto freddo Perché le temperature Si stanno alzando Si riappasseranno Poi domenica Quindi Credo che dal punto di vista Della temperatura Intorno ai 10 gradi Il problema sarà la pioggia Perché dovrebbe piovere Tutto il pomeriggio Perfetto Per modo di dire Va bene Marina Io ti ringrazio Ringrazio la giornalista Di Terrananews.it Marina Ferretti Per essere intervenuta Ai nostri microfoni Marina Grazie mille Buon lavoro E buona partita Grazie a te Ciao Marina Bene andiamo avanti Allora leggiamo qualche messaggio Dei nostri radioascoltatori Ne abbiamo letti Ne abbiamo letti Veramente pochi Con i pronostici Allora c'è Eh Un radioascoltatore Che non si firma Dice ciao ragazzi Ascoltando la giornalista Da Terni Pare che la Terranana Schiererà un autobus Davanti alla difesa Beh se in effetti Sarà quello il modulo Quella la formazione Dittura con Defendi Schierato In avanti Sì Molto probabilmente Sarà così Ma non mi sorprendo Perché insomma In quella situazione Insomma De Cagno Non potrebbe fare Diversamente Allora leggiamo qualche pronostico Buongiorno Siamo Marco E Carol Da San Pasquale Vince il Bari 2 a 0 Con gol di Galano E Kozak Poi Alessandro Domani prevede un 3 a 2 Per noi Galano Kozak Enderson Nicola Sei in grado Di togliere un dubbio Kozak Con la C O con la K Finale Con la K Finale Poi Fino a Bari Ah cosa l'abbiamo letto Di Nostradamus Poi ciao Sono Nino da Bari E vinciamo 1 a 0 Gol di Galano Oggi sono un tantino Più contento L'Atalanta E Masiello Sono fuori Dall'Europa Però alla fine Masiello a parte Mi dispiace Perché comunque L'Atalanta Ieri Comunque nell'arco Delle due partite Non meritava L'eliminazione Hanno giocato Veramente Boris Vinciamo 2 a 0 Con i gol di Kozak E Galano Cosa si sa Riguardo lo stadio Per il momento Guarda ci sono A breve potrebbero esserci Delle novità Poi Leonardo 0 a 2 Tutti i gol Nel secondo Tempo Non ne abbiamo parlato Sino ad ora Però Su molti giornali Su molti siti Si sta parlando Di un aspetto importante Che ovviamente Andremo ad approfondire Nei prossimi giorni Dopo la partita Vale a dire Il rinnovo Contrattuale Di Galano A dare per primi La notizia I colleghi Di tutto Mercato Web Che parlano Di un accordo Per un rinnovo Fino al 2021 Per Galano Noi Speriamo Che questo Possa Accadere È vero Che il contratto Di Galano Non scade Quest'anno Però Sarebbe veramente Importante Legare Robbe di Puglia Che non sta vivendo Un momento felicissimo Nel Bari Sarebbe importante Legarlo Alla società Biancorossa Per altri anni Sarebbe un segno Anche di forza Da parte del club Biancorosso Bene È veramente tutto Anche per quest'oggi Vi ricordo che le repliche Di Tanto Non Capirai Sono disponibili Sul canale ufficiale YouTube di Radio Mi Piaci Ma sono anche su Spreaker Ma anche sulla pagina Facebook Di Radio Mi Piaci Ringrazio Fabio Scorcia Inveggia E tutti voi Per averci seguito Tanto Non Capirai Torna lunedì Ci sarà Luca Dele Teris Qui su Radio Mi Piaci Con una nuova puntata Ovviamente Forza Bari E ciao Da Nicola Lucarelli Grazie a tutti Grazie a tutti